Ma ciao a tutti, come state? Oggi un nuovo video, non so bene quando uscirà, se prima della fine dell'anno dopo, dell'anno dopo, dopo l'inizio. Comunque il video è qua, oggi è 26 dicembre, come vi ho detto, noi mi ricordo che noi stiamo diventando molto professionali. Tu professionale, tu non ci crederà mai nessuno. Sì, sono diventato professionale, qualche dubbio per caso. Sì, volte. Ma adesso vieni qua, vieni qua. In questo video parleremo se nel nostro sistema solare è possibile andarci ad abitare. E nel mentre faremo merenda, infatti ho portato degli snack. Quindi se vi va, potete anche prendere anche voi qualche cosa da mangiare e così facciamo merenda insieme, ecco. E sarà un video molto particolare, l'ho già detto. Niente. Possiamo iniziare con il primo pianeta che non è un pianeta ma è una stella. E il sole è possibile andarci ad abitare? Beh, molto probabilmente no. Anche perché la prima cosa quando noi cerchiamo il sole, la prima cosa che ci fa capire è 5778 gradi kelvin. Che sarebbero più o meno circa 5100 gradi kelzis. Quindi diciamo che sul sole è impossibile viverci. Dopo del sole c'è Mercurio. Mercurio, allora. Andiamo a cercare, andiamo su Wikipedia. che è il primo risultato. E a presto va la connessione. Ok. Mercurio, lo capiamo, la prima cosa che notiamo è sempre la temperatura. Che va da meno 173 gradi centigradi a 427 gradi kelzis. E qui c'è una grande escursione termica dal giorno alla notte causata dalla mancanza dell'atmosfera. O almeno c'è ma è quasi del tutto nulla. E voi vi direte, vabbè, ci sarà un punto che sarà più umido. Invece no, il problema non è se c'è atmosfera. Quando il sole, dove il sole scalda, scalda a più o meno, intorno a 427 gradi. Invece dove non c'è, manco proprio dico al confine. Aspettate un attimo. Mi ha portato. Ecco. Sperando che mi vediate. Ma sì. Allora. Però. Ecco. Qui. No. Sì. Lo capisco, basta capirlo bene. Allora. Qui c'è il sole che scaldano. E voi direte, ma magari qua. Che tipo c'è il sole non dovrebbe più scaldare. Facciamo così. Dite, ci sono 20 gradi. Mettiamo un esempio. Invece no. Per colpa della mancanza dell'atmosfera. Qui magari è. Qui che c'è un, diciamo, non batte più il sole. E meno 420, no, sì, meno 173, scusate, mi sono andato confuso. Meno 173 gradi. E qua dove c'è il sole è più 427 gradi. E vi spato anche un mito. Mercurio, con le temperature di giorno così alto, non è il pianeta più caldo del sistema solare. Voi direte, essendo il primo, è un po' un contro senso. Infatti, tra poco vedremo che il pianeta più caldo è Venere. Ma su questo lo scopriremo tra poco. Infatti, se andiamo a cercare Venere su Google, vediamo e andiamo a cercare, andiamo a cliccare qua, se non sbaglio, se non dovrebbe, qua non lo dice. Perché non dice temperatura? Vabbè, ve la dico io. Se andiamo a cercare su Venere, in teoria, e chiediamo Venere temperatura, la sua temperatura è di media, dico, quindi può anche salire a 470 gradi Celsius. E questa temperatura è data da come è formata la sua atmosfera, che è composta principalmente da anidride carbonica. E infatti, come la conosciamo oggi, la anidride carbonica è una sostanza che crea l'effetto serra. Che l'effetto serra di per sé è un beneficio, perché senza di essi, diciamo che si potrebbero presentare i grandi sbalzi di temperatura. E quindi, diciamo che mantiene parte dell'energia al solare, in modo tale che riesca anche, quindi la temperatura sia più o meno simile. Però, troppa, come possiamo vedere adesso sulla Terra, che ne stiamo mettendo un po' troppa, e qui dobbiamo fare un po' attenzione, crea un alzamento delle temperature elevate. È per questo che la temperatura su Venere è molto alta, essendo anche il secondo pianeta del sistema solare. Il Venere è anche detto pianeta gemello della Terra, poi nell'atmosfera abbiamo anche uno strato di acido solforico, che rende il pianeta da noi il secondo più visibile della Terra, il secondo più luminoso da noi sulla Terra. Però, andarci ad abitare sarebbe anche molto improbabile, anche perché se non ci fosse stata temperatura elevatissima, c'erano, diciamo che molto, diciamo che nella costa venusiana ci sono molti vulcani, ancora oggi, attivi. E quindi, diciamo che su Venere, come Mercurio, è impossibile andarci ad abitare. Ci sarebbe la Terra, sì, ma tanto noi sappiamo che c'è la vita qui sulla Terra. Quindi, passiamo a Marte. Marte ha delle temperature abbastanza confortevoli. Diciamo che la sua massima temperatura è di 20 gradi, la minima è di meno 140. Diciamo che meno 140 congeliamo, però diciamo che potremmo andare a vivere solo dove ci sono 20 gradi. Ecco, mettiamo, dove c'è il sole, ecco, mettiamola così. E diciamo che l'unico suo problema è l'atmosfera, perché la temperatura potremmo cavarcela, l'atmosfera dovremmo avere tante bombole di ossigeno. Infatti, l'atmosfera è composta del 97,97% di anilise carbonica e solo il 0,13% di ossigeno. Un altro problema è che, visto che abbiamo, stiamo risolvendo un po' tutti i problemi di Marte, andiamo a cercare se in Marte si può trovare l'acqua. Ecco, andiamo a cercare Marte, acqua. Stiamo risolvendo che carichi, ecco. Su Marte è presente l'acqua, non allo stato liquido, almeno in superficie non si può trovare, non si trova allo stato liquido, ma ci sono dei ghiacciai, no, con non solo acqua, ma anche anilise carbonica ghiacciata, ma magari si pensa che sotto la crosta martiale si possono trovare delle reti di laghi con l'acqua liquida. Ovviamente, per essere sicuri che si può trovare questa presenza di acqua liquida, dovremmo andarci proprio di persona. Quindi diciamo che Marte è potenzialmente abitabile. Ci sarebbero Giove, Saturno, Urano e Nettuno, però essendo pianeti gassosi è impossibile viverci. Anche perché le loro temperature eseggirono intorno ai meno 200 gradi, meno 185, meno 210 gradi, quindi è impossibile viverci. Ma la vera domanda è, nei satelliti si può vivere?